Ciao cari follower e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, premere sul tasto like e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che per voi è un piccolissimo gesto ma per noi è un gesto di estrema importanza che ci permette di avere previsioni sempre più precise ed esclusive. Parliamo ora del tempo previsto sull'Italia fino al lungo termine e ora vi dirò quando finirà definitivamente il caldo. Prima di tutto avremo ancora giorni molto sopra la media con uno zero termico fino ad oltre 4.500 metri quindi una media di agosto e con massime fino a 27-28 gradi in pianura padana cosa veramente incredibile, l'ottobre più caldo degli ultimi dieci anni. Ma ecco che poi già dai prossimi giorni quindi sul finire della settimana avremo l'arrivo dei primi temporali e le prime piogge che non saranno abbastanza intense ma daranno il via a un piccolo calo termico. Mentre poi dopo il 10-15 di ottobre avremo la prima ondata di freddo con il ritorno dell'autunno.